ciao a tutti oggi prepareremo il frosting al formaggio per muffin il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa ingredienti sono formaggio spalmabile a panetti burro zucchero aroma di vaniglia e colorante alimentare in gel diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero se ne ami il bimbi per 15 secondi a velocità 10 aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro aggiungiamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3 arriviamo sul fondo del boccale ripetiamo l'operazione per 30 secondi sempre a velocità 3 aggiungiamo il formaggio spalmabile che vi ricordiamo deve essere in panetti e non in baschetta e l'aroma di vanillina facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3 trasferiamo il composto in una ciotola aggiungiamo il colorante in gel che ricordiamo essere facoltativo e amalgamiamo delicatamente trasferiamo il frosting in una sac a poche e decoriamo i muffin frosting al formaggio per muffin grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti